Ah, sì, sì, sì. Mmm, le ragazze hanno i nuggets. Uh, solamente uno. E Nancy ne ha tanti. E vediamo cosa ha Diana. Wow! Mmm, ce ne sono cento. Fantastico! Cominciamo da Chloe. Vabbè, ce la farà. Va bene. Ok, mi servirà la salsa. Ok. Mmm, così i nuggets saranno più buoni. Mmm, che buono. Ok, lo metto qui. E mangio subito sia il nuggets che la salsa. E? Frendo! Oh, no, non ce l'ho fatta. Vabbè, che c'è? Ma perché ridete? Comunque è buono. Vabbè, Nancy, posso pulire così? No, basta. Ok, e adesso tocca a me. Li mangio con la salsa. Anche se... Anche se... E so... Non mi basterà una salsa per tutti i nuggets. Lo so. Ok. Devo mettere tutti i nuggets davanti a me. E poi, col cucchiaio, metto un po' di salsa. Così mi basterà. Ah, sì. Perfetto. Così. E adesso posso mangiare tutti i nuggets. Che buoni che sono. Mi piacciono. Ok. Io ho finito. E poi? Diana? Vai. Oh, col piacere. I miei nuggets mi aspettano. E li mangio con la salsa. Oh, che buono che è. Voglio mangiarli ancora e ancora. Non posso neanche fermarmi. Ce ne sono così tanti che posso mangiare due alla volta. Guardate. E adesso li prendo. Sì. Io sarò piena tra poco. Ok, non pensavo di dirlo, ma sono piena. Cosa? Ma... Cosa? Ma non è diminuita. Ok. E adesso li metto tutti quanti in bocca. Vediamo. Chi batterà chi? Ok, dai su. Oh, cavolo. Io scoppio tra poco e la montagna non è diminuita. Cosa ci si è arresa? Deve mangiare tutto quanto. Deve mangiare tutto quanto. Dai, dai. Ce la farai. Ce la farai. Dai, su. Ok. Ci proverò. Ma non diminuisce. Oh, mi ha dato supporto. Grazie mille. Eh, ma io ce la farò. Eh, forse ho uno secondo stomaco. Ok. Così ce la farò mangiare tutto. Ok. Mi è rimasto l'ultimo. Sì, ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta. E vai. Ragazza, che brava che sei. E il gelato? Sì, è bello. Però ce l'ho solo uno. Diana è più fortunata. Ne ha dieci. Vediamo quanto ne ha Chloe. Non ci crede i miei occhi. Cento. Sì, Chloe sarà piena. Ok, cominciamo da Nancy. Ok. Ho solo un gelato, però è buono. E che cioccolato. Buonissimo. Ok, Diana, vai. Sì, col piacere. Ok, io sono una fan del gelato. Ed è così buono. Uh, il cioccolato. E poi... Sì, la crema all'interno. Che buono. Ah, sì. Mi piace. E poi sono rimasti due. Non posso fermarmi anche se ho freddo. è così buono. Oh, devo salvarla. E so come farla. Ah, adesso. ci scolto, grazie al foglio. Fatto. Grazie mille. Oh, no. Oh, cosa? Ho scelto il mio gelato. Cavolo. Dovrò mangiarlo così. Diana, è finito. E adesso posso mangiarlo io. Ok. Devo sbrigarmi finché lei non sia sciolta. Mmm. Non vi immaginate quanto è buono. Ok. Non mi aspettavo una cosa al genere. Posso mangiarlo così anche due alla volta. E poi ne avrò una montagna. È fantastico. Più lo mangi, più lo vuoi. E più freddo fa. Oh, no. Adesso Chloe. Dov'è il mio phone? Aspetta, Nancy. Dai, prima mangiamo il suo gelato. E poi lo scalziamo. Ma non le piacerà. Vabbè, io l'aiuto. Fa più caldo. Cosa? Dov'è il mio gelato? Ah, io non sento nulla. Chloe? Ma io volevo aiutarti. Nancy. Prendi. Adesso le darò una lezione. Jane? Ci sarà un duello sulle bacchette. Lascio a ritirare la mia sfida. Io, cosa? Non sono mica una codarda. Ok, prendi il gelato a mangiarlo. Ti farò vedere come sono codarda. Ecco, guarda. Lo rompo. Ecco, prendi. Oh, cavolo. Io non so che la cosa del genere sia la TV, però è più bello così. Vediamo chi vince. Ecco. Chloe ha perso. e io sto in piedi. Uh, Chloe ha una busiglietta piccola con la gelatina. E Nancy ne ha una gigantesca. Non ce n'è una di... Sì, più grande. Anche se... No, mi sbagliavo. Sì, c'è un'altra più grande. Uh, non ci vedo neanche Diana. Però, va... Chloe, va bene. Su, vabbè, è più piccola, però comunque io la mangio col piacere. Guardate che bello che è. È buona. Eh, vabbè. Che ci fai qui? Dai via. È mia. Oh, io ho così tante gelatine, così tanti skittles. Voglio provarli. Ah, sì. Ragazzi, è molto buono. Io penso che la possa mangiare all'infinito. Buono, buono. Non posso fermarmi. Cosa, è finita? Va bene, sono piena. Uh, stai da... Cosa? Non mi hanno detto a casa. Mamma, sono mi roba. Oh, no. No, prendatemi. Cos'è meglio? Diana, tocca a te. Sì, tocca a me. Ecco, mangerò questa bontà. Uh, quanti skittles. Sì, ragazze. Sì, loro avevano ragione. È così buona. Ma mangio così bene. Aiuto. Diana, guarda. Eh, vabbè. Ma sono delle api. E so cosa fare. Piccoline, scusatemi. Però io non voglio condividere con nessuno. Sì, Diana. Che brava che sei. Ma sono tornate. Ce ne sono ancora di più. Ragazze. Ecco, salvatevi. Ma io ce la farò. Ho detto, io non condividerò. Ma perché non funziona? Ma cosa? È finito. Oh, no. Salvatevi. Wow. È stato forte. Sì, però non toccateci. Non mi ha fatto male. Oh, no. Ridatemi. No. Oh. Sono tardi. Che bello, che bello. Io ho una porzione piccola. E io media. E io non ho visto una porzione così grande. E che profumina. Voglio provare. Cosa? Ma questo cos'è? La salsa piccante? Cavolo. Io ho la più piccola. Però ho paura di aprire. Ok. Spero di essere fortunata. Non male. Scusate. Kenny, vai tu. Va bene. Io penso che non sia così terribile. Ok. È una. Adesso la metto dentro. E mangio. Ecco. Sembra carino. Sì, mi piace. Non me l'aspettavo. Sì. Vabbè, succede. Nancy, tocca a te. Va bene. Ah, sì. E con la salsa? Non sarà così facile. Dai, ci aiuto io. No, no. Per paura. Perché? Ecco. E adesso vai. Cavolo. Ok. Devo mangiare. Ma perché? Mi avete detto che fa paura. È buona. Eh, dai, stai attenta. Ma cosa? Perché devo stare attenta? È buona. È tutta. Oh, no. Cavolo. Oh, che ridere. E cosa c'è con i miei cappelli? Va bene. Uh, che bello. Però così piccolo. Cavolo. Sì, guarda. E io sono fortunato. Cosa? Ah, sì. Cavolo. Ma guardate com'è. Sì, ma ci invidio. Però io vado per prima. E ok, devo mettere l'ago? Sì, ha funzionato. Io ho un cioccolatino. Sì, peccato che ho solamente uno, però è buono. Buono. Io vorrei ancora, però. Tocca a te. Andiamo. Ok. Vediamo quante cioccolatini ci sono. Ma non vedo nulla. Ok. Allora prendo l'ago e... Non assomiglia un cioccolatino. Cosa è stato? Kenny. Dovresti vedersi. Che ridere. Vabbè, sono sfortunata. Ma forse puoi spiegare cosa è stato. Scusa, non me lo aspettavo. Adesso ti aiuto. No, 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 Kenny. Ma io... Ecco, devo mettermi a posto anch'io. Ecco, vedi? Non c'è più nulla. Nancy, tocca a te. Sì, sì, grazie che me lo hai ricordato. Ci deve essere qualcosa di... Sì, quanti skittles. Che bello. Anche noi li vogliamo. No, sono i mie. No. Vabbè, non è stravido. Ok, grazie a queste cannucce posso mangiare tutti quanti. Li mangio tutti quanti e non vi resterà nulla. Ecco. È finito. Sì, che bello. Vabbè, è stato giusto. Va bene. È tutto. Ma come mai? Wow. Io adoro Basky e Robbins. Cosa? Oh, sì. Voglio provare. Kenny, vai. Va bene. Con la porzione piccola finisco. Sì, velocemente. Ci sono due cucchiaie, però buoni. Sì, è buona. Tutta. Ma solamente un cucchiaio. Mi dispiace, ma non posso aspettare. Io ho un'idea. Com'è? Mi piace. Io sono sicura che sarà molto buona col gelato. Ok, partiamo da M&M's. Poi metto la panna. Poi lo sciroppo al caramello. E poi aggiungo gli zuccherini. E i bastoncini. Oh, che bello. Che brava. Ok, vado. Perché io voglio mangiare. Che buono. Oh, sì. Dovrei controllare. Buon appetito. Così. E adesso ti faccio vedere come si rubano le cose agli altri. Prendi. Oh, che fai. Vabbè, non volevo lo sciroppo. Anche se sono felice. Ragazzi, avete finito? Ok, dai, lavati. E io devo mangiare il mio gelato. Buono. Che succede? Ma è come quello di clove. È mio. È così pesante. Stai bene. E tu cosa pensi? Ma allora posso mangiare così? Buon appetito a me. Ho la pressione piccola. Cavolo. Oh, no. Non dite che è tutto per me. Sì, Chloe. È per te. Comincia. Io. Va bene. Queste caramelle acide non mi piacciono. Però posso mangiarne una. Spero che non vi succeda nulla. Che succede? Meglio. Nancy, tocca a te. Cosa? Devo? Ok. Che caramella. Ok, prova a leccarla. Ti aiuto. Guarda. Adesso la finiamo in quattro quattro occhi. Guarda come si gira. Non ci resta che leccarla. Va bene, andiamo. Che terrore. È insopportabile. Sì. Chloe, buona fortuna. Dov'è? Va bene. Per cominciare, devo prendere la scala e vedere cosa c'è. È così grande. È così pesante. Sono caduta. e non riesco a morderla. E come faccio a mangiarla? Devo pensare. Ah, sì. Datemi il martello. Sì. Che bella idea. Ragazzi, così è molto più facile da mangiare. E adesso metto tutti i pezzini qui. Fatto. E adesso aggiungo dell'acqua bollente e ci sarà il succo. Cosa ne dite? Mi sembra geniale. Non resta che prendere la cannuccia e provare. L'importante è non pensare che sia acido. Che terrore. Mi fa male solo a vedere. Io ho capito mi ridere. Oh, che ridere. Sta ballando. Dai, balliamo anche noi. Oh, che bello. Non c'è la sfida. Wow. Sina ha una bocilla enorme. Non sapeva nemmeno che esistessero dimensioni del genere. Ma iniziamo con Fibie. Ha la bocilla piccola quindi comincia lei. Proviamo. Buono. Mi piace. Voglio dire posso bere tutta la bocilla in un goccio. Così. E adesso dobbiamo provare a gonfiare una... Sì, una bolla. Fantastico. Chi vuole andare ma è lì vai. Fantastico. È passato così. Dai. Su, voglio mangiarla tutta. strano. Qui c'è il gusto di Coca-Cola. So cosa fare. Devo aggiungere i Mentos. Così. Vrra da sola. Dai, proviamo. Ha funzionato. È delizioso. E... cosa sono ingollata. Dai, faremo una scorsa alla ragazzettina. Ciao. Forte. Guarda. Eww. Ti è piaciuta? What? Eh, vabbè, provare. Perché dovrei provare le tue gramelle se io ho cento volte più grandi sicuramente più buone? Assaggiamole. Forza. Dai, su. Ragazzi, vabbè, sapete una cosa? Ho una idea grandiosa. Voi potete spingere e io cerco di mangiare. Oh! Finalmente! Forza! Ancora! È deliziosa. Ecco fatto. Sono così piena che non avete idea. e adesso vi faccio vedere come si fa una bolla gigantesca. Guardate. Uh, che bolla. Pensi che devi fermarsi. Che sta andando? Nello spazio. Spero che siate bene. Vi aspetto sulla terra. Mi sentite? Ho ricevuto una confezione piccola. Perché sono così spordonate? E io ho la confezione media di Italkis ma sono così piccanti. Non voglio... Aspettate, ma... Ma è lì? E io ho una confezione gigantesca. Non posso credere ai miei occhi. Come farò a mangiarla? Vabbè. Mangia. Vabbè, però tu cominci per prima. Va bene. Penso che sicuramente non terrò nulla da... Una confezione. Facciamo un tentativo. Ma c'è solamente una patazzina. Ha un buon sapore. Ma... mi brucia la bocca, mamma. E adesso il naso. E le orecchie. Cosa devo fare? Ragazze, mi dispiace. Ah, ecco. Tieni. Così, meglio. Ah, grazie, Zina. Oh, oh. Credo che il fumo deve uscire. Non riesco più a trattenerlo. Ah? È passato in fretta. Non devo preoccuparti. Zina, tocca a te. Oggi il cibo piccante mi fa venire la nosa. Ok, proviamo. Perché è così grande? No. Perché devo mangiarlo tutto? Mi aiuto. La mia bocca va fuori. Devo fare qualcosa. Vivi! Certo, certo. C'è un secondo. Dai, su. Ecco. Adesso c'è dell'acqua, però c'è anche un besciolino. Ecco, dai, su. Così. Meglio. Così. Ma, povera Dory. Eh, ma sembra che è tutto posto. Ah, cosa? Ho un besciolino. Scusa. Vabbè, meno male che l'acquario era nelle vicinanze. Ok, e adesso vai lì, vai tu. Cosa? Non è possibile. Ragazzi, ho tante paure. È così grande che mi brucerò sul posto. Proviamo a mangiarla solo un po'. D'accordo, la mangio tutta. Mamma, mamma, sento già il po' che si avvicina. E che cosa farò? Perché queste patattine sono così piccanti? No. Non è rimasto ancora un po'? Forse ce la farò? Ancora un po'? Dai, su. No, non siete neanche nulla. No. Adesso passerà. No. Dio, la mamma che la voglio bene. E adesso noi ti salviamo. Ragazzi, colza rosso, dobbiamo salvare Miley da un incendio. Dai, su. Forza, acqua, acqua, stai bene? Miley, il nostro servizio anti-incendio è riuscito a salvarsi. Fantastico. Siete state bravissime. Avete fatto un ottimo lavoro. Brava, ragazze. Wow. Cosa avete? Il marshmallow arrivo. Fantastico. Chi inizia? Zina, ne hai una rosa. Vabbè, fantastico. Però è piccolo, non preoccuparti. vediamo cosa hanno gli altri. Qualcosa di più grande? Sì, dai, tiralo fuori. Wow, è così grossa. E allora cosa ha Miley? Vediamo. Mamma, che marshmallow, però. Non ho mai visto uno di questi prima d'ora. Sembra incredibilmente delizioso. Ma iniziamo con la versione piccola. Vabbè, per me va bene. Adesso provo. E adesso... ah, ah. Cos'hai da ridere? Non ha funzionato. E allora smettetela di ridere. Ma è comunque deliziosa. Ne ho abbastanza. Che morbido, che bello. Mi è venuta una grande idea. Mangio questo marshmallow. Sì, però prima passa nella stritta carne. Lo taglio così. Saranno dei piccoli pezzettini e poi verrò l'ocioccolato così. Non è un'idea fantastica. La mia sì che è un'idea fantastica. Sarà così delizioso. buonissimo. Ma è lì? Sì, sono qua. Sì, dovrei iniziare a mangiare il mio marshmallow gigante. È così morbido. Proviamo. Buonissimo. Sì, che bello. Ma come faccio a mangiarlo? sì, ho un'idea. Sarò così. Posso adostare il marshmallow così. Sarà ancora più buono. Non vedo l'ora di provarlo. È delizioso. Wow, è ancora più buona. Sì, lo so, è così bello. Incredibile. Dai, su, basta giocare. Adesso lo dobbiamo provare. Sì, dai, andiamo. Uh, sì, lo adoro. Non riesco a smettere. cosa? Ma, ma, cosa ancora? Ma, mi sta, ma, cosa? Mi sono attaccata. Mamma, il marshmallow mi ha accatorato, ragazzi, aiuto. Tira me fuori, no. Dai, Miley, su, ancora. Non volevo. Cosa? Sono incollata. Cosa devo fare, ragazzi? Miley, cade su una trappola davvero dolce. Che schifo. È formaggio puzzolente con la muffa. Che schifo. chi è? Ho un bel pezzettino. Mamma, ma tu cos'hai? Aspetta un attimo. Ok, Fiby, ho un pezzo di formaggio più grande. È così puzzolente che potresti venire. Ecco, ragazze, però dovete mangiare. Decidiamo chi deve mangiare per prima. Dai, su. Non respirate, mangiate. Miley ha perso, mangia formaggio. Dai, ragazze, basta con sto gioco. Ragazze, ho detto, ma, sì, ho detto. Miley, tu hai perso, mangia. Che schifo. Sto per vomitare, che schifo. Ma ok, è un boccone così piccolo che sono disposta a mangiare. Sì. Dai, ma perché rigi? Tu hai il formaggio più solente. Beh, lascia che si ricordi che ce l'hai sotto il naso e che ha un odore terribile, quindi mangia. Ok, avrò sicuramente bisogno di una molletta. così non sento la puzza. Ok, proviamola. Che schifo, che schifo. Si può mangiare così tanto alla volta. Spero che questo sia l'ultimo pezzo. Eh, vabbè, non so perché mi merito di saprire così tanto con il formaggio puzzolente ed è disgustoso. Ok, ancora un po'? Lo so? L'ultimo pezzo? Ok. Miley, dai, ce la farò, lo so. Ah, scusa, non potevo trattenermi. Dai, puzzona, che schifo. Ok, e cosa succede a Phoebe? Mangia il formaggio o no? Phoebe, dormi? Ha un enorme verso il formaggio puzzolente. Non può dormire. Dai, su, mangia. Diamoli da mangiare. Sì, mangia il formaggio è buono. Mangia, mangia. Mangia per la mamma, per il papà. Mangia, mangia. Fantastico. Phoebe dorme e non si accorta. Oh, oh, forse se ne accorta. Ma guardate cosa ha fatto. Si è svegliata, poveretta. E sta male. Cosa? Vabbè, corri, corri. Ragazzi, le è piaciuto secondo me, ma è stata così divertente.